...como dal settore destro del fronte offensivo Lariano, vediamo cosa succede, palla nel mezzo, stacca la difesa allontana, raggio Garibaldi va al recupero del pallone dal limite dell'aria, metà ancora in mezzo, ballo, ballo, e poi ribatti, gol, 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 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 per il Como, 1-0 per il Como. Amici, il Como che passa in vantaggio, azione piuttosto, ma poi palla dentro, Sbardella, ha messo dentro, ha messo dentro, Sbardella, 1-0, 1-0 per il Como, meglio di così, non poteva cominciare per la formazione Lariano.